buongiorno a tutti benvenuti a questo finale di stagione dei webinar della rubrica del lupo ultimo appuntamento del 2021 io mi chiamo federico bassi e sono account manager della società di documents la rubrica del lupo è questo progetto che abbiamo fatto assieme allo studio doc paperless di fabrizio lupone proprio per permettere a tutti voi partecipanti di avere conoscenza su digitale processi digitali e le ultime notizie a livello normativo che riguardano sempre quest'ambito quindi tutta la parte di compliance e quant'altro abbiamo anche un ospite questa in quest'ultimo appuntamento che è l'avvocato fabio de massis senior advisor dello studio professionale doc paperless e come già sapete perché ovviamente vi siete iscritti però comunque giusto per fare un breve capitolo riepilogo diciamo di quello che noi parleremo parleremo di abolizione dell'esterometro che ormai ci siamo dal 2022 il rapporto della fatturazione elettronica come siamo messi tra noi e il piccolo stato alle pendici del monte titano san marino la disciplina delle fatture elettroni delle firme elettroniche e qua interverrà proprio l'avvocato fabio de massis che andremo a vedere tutti gli aspetti legali per avere una soluzione completa che permette senza alcun tipo di passaggio dalla carta stampata alla firma a mano proprio riusciremo a capire come firmare un documento che è pienamente legale e ha rispetto a pienamente i termini gli aspetti giuridici infine dopo prenderemo di nuovo la parola sulla parte di digitalizzazione della parte di cmr e ddt con anche un breve focus sulla tecnologia della block chain quali impieghi che si possono utilizzare e avremo come focus che ormai anche qui ci siamo le nuove linee guida agid e il ruolo del responsabile della conservazione e qua interverrà sempre il nostro fabrizio lupone e alla fine ci ritroveremo per la sessione di domande di risposte ovviamente prima di incominciare ringrazio tutti voi che vi siete iscritti veramente in tanti in questo ultimo appuntamento e che stiamo crescendo ormai sono due anni ed è un qualche cosa che ci riempie molto di orgoglio di questa cosa seguiteci sempre sui social con l'hashtag rubrica lupo e ovviamente tutti i processi che vengono trattati in questo webinar tutte le soluzioni digitali che vengono trattati diciamo da questa direzione scientifica che noi abbiamo indipendente che è quella dello studio doc paperless sono comunque delle soluzioni che noi di documents facenti parte del gruppo inaz possiamo proporre a tutti quanti a tutti i clienti direi che è il momento di partire buona lezione a tutti e ci rivediamo più tardi per la sessione di domande grazie federico e buongiorno a tutti ben trovati saluti appunto dal lupo oggi è questo ultimo appuntamento del 2021 un 2021 anche questo pieno di novità normative di conformità legate alla digitalizzazione dei processi delle aziende sappiamo benissimo che ormai non è più elemento di competitività la digitalizzazione ma è diventato un elemento di sussistenza cioè oggi non si può più fare a meno e lo vediamo perché il legislatore ormai è persuasivo nel suo intervento in qualsiasi tipo di scenario di digitalizzazione questo è il motivo per cui nella nostra rubrica sempre di più trattiamo argomenti anche diversi l'uno dall'altro come sapete la prima parte dedicata ad una serie di news che ci sono state sia in ambito di fisco digitale sia in ambito di processi digitali e partiamo da che cosa partiamo proprio dal da quello che ci ha indicato federico e approfitto allora oltre che per ringraziare voi della presenza di ringraziare anche federico e tutta di documents per permettere eh questa rubrica molto seguita partiamo da un argomento a voi eh caro eh perché caro perché ormai siamo vicini al l'obbligo di legge obbligo di legge introdotto dalla legge di bilancio duemila e ventuno mi riferisco all'abrogazione dell'esterometro e a favore di che cosa a favore del comunicare i dati relativi alle operazioni trasfrontaliere che significa significa con gli operatori economici intra web e extra web con cui avete degli scambi commerciali quindi gestione di beni prestazioni servizio acquisti di beni acquisti di servizi e eh voi sapete che fino ad oggi molti soggetti eh avevano l'obbligo di inviare l'esterometro altri facoltativamente avevano già utilizzato il metodo dell'XML della fattura elettronica attraverso lo SDI dal primo gennaio duemila e ventidue e state attenti non ci riferiamo alla data ma ci riferiamo alla data di effettuazione dell'operazione che significa significa che l'ultimo trimestre del duemila e ventuno come periodo trimestrale di data di effettuazione dell'operazione dovrete potrete comunque inviarlo attraverso l'esterometro naturalmente invece tutte le operazioni relative come data di effettuazione al duemila e ventidue dovranno per forza di cosa essere eh eh trasmesse come dati attraverso l'utilizzo degli XML naturalmente insieme vedremo le differenze tra ciclo attivo quindi vendite ciclo passivo quindi acquisti prima considerazione da fare eccezione esclusione ricordatevi che l'obbligo di comunicare i dati già oggi è facoltativo se io ho emesso una bolletta doganale o se io ho emesso e trasmesso allo SDI quindi ho ricevuto una fattura elettronica transitata per lo SDI vi faccio un esempio pratico io due mesi fa ho emesso una mia fattura di servizio c'è una parcella per prestazione di servizi di consulenza ad un cliente san marinese naturalmente ho utilizzato l'emissione di una fattura elettronica perché il cliente san marinese era organizzato in tal senso non è un obbligo è una facoltà stessa cosa potrebbe succedere che un fornitore un mio fornitore francese che sia organizzato magari con intermediario italiano per emettere fattura elettronica a tutti i clienti italiani in modo facoltativo decide di farlo e quindi essendo la fattura già passata per lo SDI sapete benissimo che lo SDI acquisisce i dati di memorizza e li utilizza ai fini no delle precompilate IVA dei controlli delle verifiche e via discorrendo quindi in questi casi non c'è alcuna obbligatorietà ricadiamo nel caso della facoltà per adottare questa nuova eh diciamo eh tecnica di eh quindi di trasmissione di dati transfrontalieri attraverso l'examore delle fatture quindi attraverso lo SDI a partire dal primo gennaio duemila e ventidue ci saranno delle specifiche tecniche nuove specifiche tecniche nella versione 1.7 da rispettare queste specifiche sono state introdotte attraverso il provvedimento direttoriale quindi del direttore dell'agenzia delle entrate recente del 28 ottobre 2021 e contengono quindi l'utilizzo sia nel ciclo attivo che nel ciclo passivo delle fatture elettroniche per abolire sostituire l'esterometro vi cito perché ritengo siano importanti altre due novità delle specifiche v1.7 vi ho messo il link come sempre in modo che possiate poi in autonomia andare ad approfondire le altre due novità quali sono innanzitutto la gestione delle operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali quindi il tema anche delle dichiarazioni d'intento quando un fornitore mette fattura verso un esportatore abituale dovrà valorizzare il blocco dati dell'xml altri dati gestionali attraverso delle codifiche che sono indicate in maniera chiara nelle specifiche tecniche versione 1.7 altra novità che vi segnalo è il codice di controllo e quindi il nuovo controllo e quindi il relativo codice di errore 00475 che vi scarterà le fatture quindi attenzione a partire dal primo gennaio del 2022 ci sarà lo scarto delle fatture elettroniche se nei casi dei tipi documento td 16 td 17 td 18 td 19 td 20 22 23 se il cessionario committente quindi il blocco dati relativo al cessionario committente che ricorda tutti essere l'acquirente non è valorizzato nel l'elemento 1411 identificativo fiscale IVA quindi ricordatevi che è assolutamente importante farlo naturalmente mi aspetto e qui ho messo i link sia le fac che alla guida che nel brevissimo l'agenzia delle entrate andrà ad aggiornare la guida dell'agenzia delle entrate sulla compilazione delle fatture elettroniche le fac perché perché queste guide e queste fac ancora parlano dell'esterometro ok però nonostante questo già riportano tutte le indicazioni chiarimenti rispetto alla possibilità di utilizzo della fattura elettronica nel ciclo attivo e nel ciclo passivo e per inviare i dati relativi all'estero questo perché perché voi mi insegnate che dal 2019 ad oggi già è assolutamente possibile per quanto concerne il ciclo attivo quindi le vendite gestione di beni o prestazioni di servizio comunicare i dati delle fatture emesse verso i clienti B2B e B2C attenzione anche i consumer intracomunitari ed extracomunitari attraverso che cosa una fattura elettronica quindi avremo una fattura immediata TD01 una fattura differita TD24 e dove nel codice destinatario vado a inserire 7x in questo modo lo SDI e l'amministrazione finanziaria che riceve la comunicazione dei dati sa benissimo che la finalità è quella di comunicazione dei dati dall'estero dal 2019 ad oggi era facoltativo dal 2022 dalle operazioni dal primo gennaio 2022 in poi diventa assolutamente obbligatorio la cosa importante è che attraverso il decreto di prima l'agenzia e questo è importantissimo ha disciplinato le tempistiche di emissione ok perché perché fondamentalmente dovremo emettere a SDI le fatture per comunicare i dati trasfrontalieri entro i termini delle immediate le differite quindi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione entro il 15 del mese successivo rispetto al mese di effettuazione delle operazioni per le differite mi raccomando perché queste date sono mandatorie cioè se non si rispettano così come per i documenti ordinari trasmessi in ambito Italia quindi fornitori clienti nazionali ci sarà diciamo l'erogazione di sanzioni ciclo passivo acquisti già da un anno dal primo gennaio 2022 era possibile evitare l'esterometro comunicando i dati relativi agli acquisti relativi a fornitori europei o extraeuropei attraverso le nuove tipologie td 17 td 18 td 19 dalle operazioni del 2022 in poi diventa obbligatorio qui ancora maggiore attenzione rispetto alla data di scadenza di trasmissione di questi dati e perché perché anche qui il decreto indica gli obblighi di trasmissione e indicando che il cessionario committente che sarebbe l'acquirente italiano trasmetta allo sdi uno di questi tre xml a secondo dei casi d'uso td 17 td 18 td 19 entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento da parte no del fornitore comprovante quindi l'operazione intracomunitaria o di effettuazione delle operazioni in caso di operazioni extra web ecco questi termini sono sfidanti quindi mi raccomando io consiglio mi ricordo che ne abbiamo parlato già nei in altre puntate della rubrica del lupo vi consiglio di non aspettare l'ultimo momento ma di iniziare ad attrezzarvi già nel corso del 2021 e quindi di iniziare diciamo ad abituarvi a questa nuova obbligatorietà due parole su un'altra novità che secondo me interesterà meno partecipante rispetto al primo argomento è anche qui uno nuovo obbligo e immaginate che la repubblica di italiana la repubblica di san marino hanno rivisto i loro accordi per per introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica negli scambi commerciali tra gli operatori dei due stati attraverso un sistema unico transfrontaliero per fortuna per noi per l'italia ma insomma non poteva che essere così si utilizzerà lo stesso xml disciplinato no dalle delle specifiche tecniche quindi abbiamo detto dal primo gennaio 2022 specifiche tecniche versione 1.7 oggi abbiamo ancora la versione diciamo vigente e si inizierà anche qui si è iniziato già vedete che io proprio a ottobre forse i primi di ottobre ho emesso questa fattura dal primo ottobre 2021 al 30 giugno 2022 periodo transitorio facoltativo no dal primo luglio 2022 mandatario quindi entra in vigore l'obbligo di legge di unica modalità di fatturazione elettronica ok e quindi attraverso il sistema di interscambio lato san marino dovete immaginare che abbiamo un unico nodo che si chiama ab san marinese sarebbe l'ufficio tributario sarà l'ab poi a smistare le fatture e ai propri operatori economici san marinesi naturalmente i forfettari che non sono obbligati oggi alla fatturazione elettronica domestica non sono nemmeno obbligati alla fatturazione elettronica nei relazioni commerciali con san marino quindi loro potranno facoltativamente decidere di mantenere la carta e di emettere quindi la fattura in tre esemplari e in modo che su uno come sapete vi sia la vidimazione cartacea dell'ufficio tributario rapidamente ciclo attivo se io sono l'operatore italiano e devo emettere verso un cliente san marinese devo fare tre cose semplici emettere verso il codice destinatario dell'ufficio san marinese e l'ufficio tributario ab è 2 r 4 g t o mi raccomando perché sono tanti già gli errori di persone che inseriscono lo zero al posto della o tra cui anche me e 8 finale poi non dimenticate come abbiamo detto prima c'è il nuovo controllo di valorizzare correttamente l'elemento dell'xml 1411 identificativo fiscale iva dove inserirete sm per individuare il codice paese san marinese mentre l'identificativo del codice ci andrete a mettere non la partita iva ma il codice operatore economico sarebbe il coe che individua in maniera univoca gli operatori economici nello stato di san marino e ricordatevi che quell'obbligo che sia dove l'operatore economico italiano deve verificare l'esito del controllo effettuato all'ufficio di tributario di san marino lo avrete attraverso il portale fatture corrispettivi su fatture corrispettivi si avrà la possibilità di verificare che l'operatore economico san marinese abbia regolarizzato l'imposta e quindi sia tutto a posto fatto sta che uno stato in corrispondenza della fattura su fatture corrispettivi va a sostituire quella avvidimazione dell'ufficio tributario cartaceo che avveniva sul terzo esemplare della fattura emessa se naturalmente entro i quattro mesi successivi il termine è rimasto il medesimo non vedete l'evidenza la convalida della regolarità sapete che avete l'obbligo così come avveniva nel cartaceo di emettere una nota di variazione td 04 e di pagare insomma le imposte allo stato italiano e ciclo passivo invece sarà facile il fornitore san marinese dovrà indicare il vostro codice destinatario o del vostro intermediario di fatturazione elettronica come ad esempio di documents o in alternativa per chi utilizza la pec dovrà indicare l'indirizzo pec naturalmente dovrà indicare anche tutti i dati del cessionario committente italiano direi che abbiamo concluso questa prima parte sul fisco digitale poi lo riprenderemo successivamente ma adesso voglio dedicare una parte un cuore importante della rubrica del lupo e su questo mi farò appunto aiutare vi farò spiegare il tutto da eh l'avvocato fabio de massis appunto eh senior advisor del dello studio professionale del mio studio eh f lupone doc paperless su che cosa parleremo dei documenti informatici e parleremo della sottoscrizione ma soprattutto ci interessa grazie a fabio approfondire gli aspetti legati a il valore giuridico e l'efficacia probatoria con dei casi d'uso che saranno interessanti quindi fabio lascio la parola a te e vai pure e buon buon speech buon intervento grazie fabrizio buongiorno a tutti oggi affronteremo le problematiche giuridiche legate alle firme elettroniche andando a conoscere quelle che sono le varie tipologie di firme elettroniche riconosciute dall'ordinamento italiano per fare questo prima di fare di andare analizzare le differenze tra le varie firme elettroniche è opportuno però andare a analizzare qual è la definizione che l'ordinamento italiano fornisce del documento informatico ehm a questo riguardo andiamo ad analizzare quanto definito nel codice amministrazione digitale che indica come il documento informatico la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti da ciò ne consegue che ogni documento informatico eh ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile fa piena prova dei fatti e delle cose che sono rappresentate nello stesso se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime. Che cosa significa questo? Che oggi eh l'ordinamento italiano e quello europeo danno piena ehm validità al documento informatico equiparandolo a quello eh al cartaceo tanto che nel rispetto del principio di non discriminazione eh definito dal regolamento EIDAS il documento informatico ha una valenza probatoria anche in sede giudiziale cioè può essere utilizzato eh per provare i fatti eh e gli accadimenti in esso contenuti anche dinanzi a un giudice. Ehm il codice dell'amministrazione digitale a tal riguardo fa delle eh stabilisce che eh il suo valore probatorio sarà liberamente valutabile in giudizio in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e modificabilità che il documento informatico contiene. È proprio sotto questo aspetto che si innesta l'importanza della firma elettronica perché grazie alla firma elettronica noi riusciamo a dare un maggior valore eh giuridico al documento informatico in quanto la firma elettronica consente di attribuire requisito della paternità al documento stesso. Cioè cosa significa? Un documento elettronico firmato elettronicamente consente di identificare il soggetto al quale appartiene la firma, di provare la paternità della firma e di anche esprimere la paternità del contenuto del documento stesso. E questo come vedremo adesso nell'analizzare le varie tipi di firme che eh esistono nel nostro ordinamento ehm prego Fabrizio di girare la slide grazie eh ha un rilievo fondamentale in termini di efficacia approbatoria dei documenti ehm le firme elettroniche nell'ordinamento italiano vengono disciplinate sia dalle regole del codice civile del codice procedura civile sia dal regolamento EIDAS che dal codice dell'amministrazione digitale nonché dalle norme tecniche emanate in attuazione del codice amministrazione digitale contenute nel DPCM il 23 febbraio 2013. Possiamo distinguere tre tipi di firme elettroniche. La firma elettronica semplice, la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata o digitale. Qual è la differenza mh principale tra queste tipologie di firme? Che quando noi sottoscriviamo un documento con una firma elettronica semplice quel documento avrà un'efficacia approbatoria in sede giudiziale ridotta rispetto alle altre ipotesi. Cioè quel documento costituirà un indizio di prova e sarà liberamente valutabile dal giudice insieme ad altri fattori che costituiranno la prova del processo. Discorso diverso avviene nel caso in cui sottoscriviamo un documento elettronico con una firma elettronica avanzata in questo caso o con una firma elettronica qualificata. In questo caso il documento oltre a soddisfare pienamente il requisito della forma scritta avrà una piena efficacia approbatoria ai sensi del disposto dell'articolo 2702 del codice civile. Ciò che cosa significherà? Che in un ambito giudiziale esso farà una prova legale, la controparte nel nostro giudizio dovrà presentare una querea di falso per disconoscerne il contenuto ed la paternità stessa del documento. Se questi sono gli aspetti giuridici che caratterizzano la sottoscrizione elettronica di un documento, va sottolineato che la stessa sottoscrizione stessa non dà certezza della data-ora di formazione del documento, per il quale occorrerà invece ricorrere una validazione temporale qualificata secondo quelli che sono i criteri stabiliti dal DPCM 23.2.2013. Vediamo in concreto quali possono essere i casi d'uso delle varie firme e quali documenti possono essere firmati con le varie tipologie di firme. Possiamo dire che la firma elettronica semplice si può utilizzare per tutti i contratti tranne quelli che secondo le norme italiane, in particolare l'articolo 1350 del Codice Civile, richiedono la forma scritta a sostanze, nel senso che appena di nullità, l'articolo 1350 del Codice Civile elenca tutta una serie di atti e negozi per i quali la forma scritta è un requisito di validità dell'atto. Un esempio che sarà capitato a tutti voi è quello di un contratto di acquisto di un bene immobile, in quel caso non sarà possibile sottoscrivere un contratto di trasferimento i beni immobili con la firma elettronica semplice. Esistono anche altri contratti che non possono essere sottoscritti con la firma elettronica semplice, sempre richiamati all'interno dell'articolo 1350, che sono ad esempio i contratti di lavoro a tempo determinato superiore a 12 giorni, i contratti bancari, locazioni immobiliari ultranovennali. Per tutti questi tipi di atti e contratti non sarà possibile utilizzare la firma elettronica semplice. Viceversa, la FEA, oltre alla firma elettronica avanzata, potrà essere utilizzata ovviamente per tutti quegli atti per i quali è possibile utilizzare la firma elettronica semplice, ma per di più anche per taluni di quegli atti per i quali il codice civile prevede la forma scritta a nullità. Sono quelli specificati dall'articolo 1350 numero 13 e sono ad esempio i contratti bancari e tutti quei contratti previsti da norme speciali richiamate dal codice civile. Per tutti gli altri contratti invece, che sono quelli indicati dall'articolo 1350 dal numero 1 al numero 12 e riguardano principalmente il trasferimento di beni immobili e diritti ad essi connessi, sarà necessario utilizzare la firma elettronica qualificata. Per i contratti di agenzia, secondo quanto abbiamo detto prima, non essendo prevista la forma scritta appena di nullità, potremmo tranquillamente utilizzare la firma elettronica semplice, così valga per quello che riguarda i contratti stipulati, i mandati per gli informatori farmaceutici o quant'altro riguardi i contratti di agenzia con coloro che sono gli agenti delle società di vendita e servizi telecomunicazioni. L'importanza di utilizzare la corretta firma digitale per la sottoscrizione degli atti è stata ribadita recentemente dal parere dell'agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021. Come dicevamo prima, i contratti che riguardano la cessione dei beni immobili non possono essere sottoscritti che con firma elettronica qualificata e questo è quanto ribadito l'agenzia delle entrate, evidenziando come il contratto preliminare di compravendita che è stato stato sottoscritto da un firma elettronica semplice non fosse valido, pur se nonostante la sua non validità sotto il filo civilistico fosse comunque il contribuente tenuto a pagare la tassa di registrazione. Spero di avervi potuto trasmettere in questa breve illustrazione quelli che sono i profili essenziali della disciplina giuridica delle firme elettroniche. resto a disposizione per vostre eventuali domande. Sì, grazie Fabio, c'è stato chiaro, hai posto un quadro panoramico rapido perché qui i tempi come sappiamo nella rubrica del lupo sono sempre molto ritmati e rapidi, però ci hai dato sicuramente uno scenario completo con tanti elementi interessanti. Ad esempio io mi porto a casa, spesso si sente dai giuristi di questa materia parlare esclusivamente di valore della firma ad probazione ad substanzia dove gli utenti, lasciami dire, capiscono poco, mi è piaciuto molto il fatto di far capire che la firma elettronica semplice rappresenta un indizio di prova che può nella valutazione del giudice e del perito assolutamente garantire poi la forma scritta e l'efficacia probatoria nel momento in cui le sue caratteristiche di sicurezza, integrità e in modificabilità garantiscono appunto questo, mentre la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata sono appunto già delle prove legali e quindi magari non necessitano addirittura la firma digitale, quindi la qualificata ha la presunzione legale, però sempre di più con il Covid soprattutto i servizi, le relazioni stanno sempre più utilizzando delle soluzioni di firma remota e tantissimo si stanno diffondendo anche delle firme elettroniche semplici, remote ma robuste, comunque ben fatte. Ti chiedo per completare il tutto, questi documenti firmati poi devono essere conservati digitalmente? La conservazione digitale è un passaggio ulteriore della sottoscrizione, per cui diciamo che in un ciclo di vita digitale del documento sarebbe opportuno provvedere alla loro conservazione digitale in una fase successiva. Ok, grazie, è opportuno, diciamo che poi è obbligatorio per tutti quei documenti di cui è obbligatoria la conservazione per legge e regolamenti. Bene, grazie, passiamo all'altro argomento e ritorniamo sul tema del fisco digitale, in questo anno diciamo, in particolar modo, in questi due anni, quindi dal primo gennaio del 2020 in poi, si sta sempre di più assistendo a richieste da parte del mercato di dire ma se io in virtù del nuovo regolamento europeo, il 1912 del 2018 che ha modificato il previgente regolamento e mi ha chiesto, mi ha imposto di procurarmi mantenere e conservare delle prove documentali nell'ambito della cessione dei beni intracomunitari, quindi che significa un fornitore italiano che cede dei beni ad un acquirente francese, tedesco, spagnolo o greco e fondamentalmente ho un'obbligatorietà di conservare una sorta di dossier documentale con una serie di documenti specificati dal legislatore europeo, la richiesta che sta arrivando è quella di dire ma perché tutta questa carta nella documentazione del dossier? Manteniamo una gestione, adottiamo una gestione elettronica e da questo punto di vista assolutamente è interessante anche quanto indicato dalla Commissione europea nelle note esplicative del 20 dicembre 2019 del regolamento che appunto assolutamente ha evidenziato l'ammissibilità e l'equivalenza della versione elettronica di tutti questi documenti utilizzati come prove della spedizione del trasporto delle merci all'acquirente intracomunitario, ok? Naturalmente perché devo preservare queste prove? Per garantire la non imponibilità IVA ex articolo 41 e il DL 331, ok? Non dimenticate che nello scenario delle gestioni francofabbrica, no? Chiamate anche ex works, il legislatore comunitario ripreso con delle risposte dell'agenzia delle entrate quindi anche dal legislatore italiano ha indicato l'obbligatorietà di acquisire la dichiarazione di ricezione merci da parte dell'acquirente. Ecco proprio sulla dichiarazione di ricezione merci che nell'ambito di una gestione cartacea spesso non si riesce ad avere, si perde, crea entropia, crea costi, crea inefficienze e la digitalizzazione di questa dichiarazione è sicuramente un fattore strategico di innovazione digitale. Ricordiamoci brevemente quali sono i documenti che dobbiamo a seconda del regolamento mantenere, non entriamo oggi nel merito specifico, già in alcune puntate precedenti avremmo approfondito la tematica, anzi approfittiamo per ricordare a tutti che sul canale YouTube di Documents la rubrica del lupo c'è la possibilità di rivedere sempre tutte le puntate precedenti quindi potete tra virgolette approfondire anche tematiche che sono state magari indicate nelle puntate, nelle rubriche di questi due anni e che magari per voi sono molto interessanti. Quindi quali sono questi documenti? Sono sicuramente il documento di trasporto emesso dal fornitore, sicuramente il CMR quindi la lettera di vettura internazionale emessa dal vettore ma sempre di più stanno nascendo soluzioni che prevedono fondamentalmente un'emissione non è per conto dove il fornitore che genera il documento come se lo emettesse il vettore in modo da digitalizzarlo. Naturalmente questi documenti sempre di più saranno sottoscritti dal vettore, dall'autista al momento della presa in carico delle merci e poi come vi dicevo la dichiarazione di ricezione merci dell'acquirente che può o riportare tutti i dati al DDT o addirittura riportare in allegato il documento di trasporto stesso. Oltre a questi documenti la cui gestione come vi dicevo può essere digitalizzata in tutto il ciclo di vita fino alla conservazione digitale obbligatoria per legge, non dimenticate che il regolamento prevede in capo al fornitore l'obbligo di conservare anche la ricevuta dell'evidenza del pagamento. Quindi il fornitore emette fattura per la fornitura bisogna innanzitutto conservare la fattura e questo lo sapete, bisogna conservare l'evidenza del pagamento della gestione dei beni, poi se si conserva anche il documento di trasporto di ritorno firmato dal cliente ancora meglio, poi dipende dalla tipologia di firma e in ultimo va conservato l'ordine o il contratto, l'ordine di acquisto e il contratto tra le parti in modo da poter evidenziare, dare evidenza della manifestazione della volontà del cliente dell'accordo di acquistare le merci. Come vedete quindi il legislatore europeo che cosa ha fatto? Ha precostituito un set, un dossier di documenti che devono essere conservati al fine di dimostrare la non imponibilità dell'operazione. Questa dichiarazione di ricezione merci in particolar modo può essere digitalizzata attraverso proprio l'ausilio di soluzioni di firma elettronica semplice e poi di conservazione digitale a norma per tutto il periodo decennale previsto dall'articolo 2220 del codice civile. Quindi questo è un ambito di interesse attualmente delle aziende in Italia. Passiamo ad un argomento forse nuovo per la rubrica del lupo, un argomento di cui si fa un grande parlare. Noi non ci focalizzeremo sull'aspetto monetario ma daremo alcune chicche, alcuni elementi informativi in merito a questa tecnologia della blockchain o meglio dei registri distribuiti di cui la blockchain è uno scenario applicativo. Quindi questa tecnologia del DLT che vi dico così come informazione volante la Commissione Europea nella proposta della revisione del regolamento EIDAS che molto probabilmente vedrà la sua ufficializzazione nel 2023 appunto ha previsto l'istituzione anche dei nuovi servizi fiduciari dei registri appunto distribuiti. Questo per dirvi che è ormai una tecnologia abbastanza nuova ma già con un buon grado di maturità e con diversi progetti reali già concretizzati che ancora ha delle criticità ma mira a veramente a modificare i modelli di business, i modelli di relazioni, i modelli organizzativi. Perché? Perché tra virgolette è una tecnologia che permette di decentralizzare, di distribuire e garantisce quindi trasparenza, sicuramente tracciabilità, tant'è che ad esempio nel settore agroalimentare è uno dei settori in cui ci sono oggi la maggior parte di progetti partiti già da diversi anni e sempre di più dal 2020 in poi, proprio per la tracciabilità dei prodotti, poi garantisce che cosa? L'integrità, l'immodificabilità e la validazione temporale. Quindi io dico sempre che permette di cristallizzare una transazione di dati, così come viene cristallizzata la transazione monetaria, quindi avrete sentito parlare di bitcoin, di ethereum, di altre valute monetarie virtuali, allo stesso modo è possibile cristallizzare che cosa? Una transazione, una transazione che prevede il passaggio di una proprietà, una transazione che prevede il passaggio di un diritto, di un'opera d'arte, del diritto di proprietà di quell'opera d'arte e quindi fondamentalmente è un ecosistema, quello dei registri distribuiti, che permette di garantire alle parti sicurezza e trust, fiducia. Non è più una fiducia garantita da un pubblico ufficiale o da un sistema istituzionale, ma è una fiducia cosiddetta distribuita. È chiaro che poi adesso non possiamo entrare nel merito, ci sono piattaforme, ci sono applicazioni di blockchain più o meno decentralizzate, alcune appunto sono pubbliche, alcune sono private, alcune sono miste, ci torneremo nelle prossime puntate, anzi se è un tema di interesse fatelo presente a The Documents, ma capiamo un attimo che cos'è appunto questo, con il termine di blockchain si intende appunto immaginate un registro distribuito, che appunto parte da L sta per l'Edgar, quindi da libromastro, nella contabilità il libromastro è una sbrodolata di operazioni che rappresentano la storia economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e così allo stesso modo questo libromastro, questo registro immutabile permette di scrivere l'hash, l'impronta delle transazioni. Allora io dico sempre che grazie alle funzioni matematiche spesso si hanno le innovazioni, effettivamente l'innovazione digitale della digitalizzazione documentale, ma anche appunto di tutto quello che concerne blockchain, è basata sulla concatenazione degli hash, quindi non dimenticate che l'hash è una stringa per noi umani incomprensibile che però permette di rendere univoco quell'oggetto digitale. Ecco, non solo la blockchain si basa su questa concatenazione che permette quindi di garantire l'immodificabilità delle transazioni, ma si basa anche su tecniche di criptografie e sulla teoria dei giochi. Perché? Perché è una diciamo è una infrastruttura fondamentalmente basata su una serie di nodi distribuiti, i nodi devono risolvere, c'è un consenso distribuito attraverso la risoluzione di una serie di giochi. Naturalmente dal punto di vista della comprensione da parte vostra non c'è necessità di arrivare a questo livello dovete sapere che c'è questa tecnologia che permette tra virgolette di garantire questi requisiti. A livello normativo il decreto semplificazioni 2019 è il primo strumento di legge che disciplina i registri distribuiti in Italia, in particolar modo l'articolo 8 ter comma 3 del DL 135 ha indicato che la memorizzazione di un documento informatico che poi come vi ho detto del suo hash, della sua impronta, quindi un libro giornale avrà un suo hash, una fattura avrà un suo hash, se ci fate caso, voi che conoscete le fatture elettroniche, se prendete una ricevuta di consegna dell'agenzia delle entrate vedrete che nella ricevuta di consegna c'è l'hash file che significa che l'agenzia vi sta dicendo guarda che io ho preso in carico questa tua fattura e ti dico che l'emissione è corretta e questa fattura ha questa impronta, questo hash. Questo decreto ci dice che la memorizzazione su registri distribuiti dell'hash di questi documenti informatici produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica prevista dal regolamento EIDAS, quindi questa date ora associata a questa registrazione può avere una rilevanza in serie di giudizio, non ha la presunzione legale come una marca temporale ma comunque ha una rilevanza grazie anche a questa disposizione. grazie a tutto questo scenario si sono diffuse molte di app, no? Decentralized application che permettono che cosa? Quello che viene chiamato notarizzazione e a me piace usare anche il termine di cristallizzazione per farvi capire meglio, cioè il fatto di dire io ho delle transazioni, prendete un portale web che ha sul proprio portale un workflow di accettazione, tutto quello che viene registrato sul database viene cristallizzato come hash su blockchain in modo da permettere un domani ad un perito di non potervi dire che quei dati non erano stati resi immodificabili e integri e da quei dati non si individuava una data e ora associata alla formazione di quei documenti informatici, perché vi ricordo che per documento informatico si intende anche i dati, l'insieme dei dati. Tra le varie applicazioni vi devo citare anche l'interessante applicazione degli smart contract che sono, sono in gergo contratti smart che prevedono però l'attivazione automatica di contratti attraverso fondamentalmente l'implementazione automatica di condizioni predefinite da un software, da un codice. Su questo già ci sono tanti progetti in Italia, in Europa e nel mondo, però attendiamo i requisiti, le linee guida previste dall'Agenzia per l'Italia digitale che ancora ad oggi non sono state emanate. Questa slide ve la lascio per approfondire per dirvi che comunque la blockchain integra nella transazione anche questi token digitali, in realtà rappresentano il vero, a mio avviso, cambiamento rivoluzionario dei rapporti del business del futuro perché questo token criptografico diventa un mezzo di scambio, ma diventa un mezzo, rappresenta la possibilità di trasferire diritti, rappresenta la possibilità di trasferire proprietà come immobili, veicoli, opere d'arti e documenti e quindi fondamentalmente sempre di più si sta diffondendo la cultura degli NFT, questi token non fungibili sono appunto questi oggetti digitali che non possono essere replicate e riprodotti, quindi questa loro univocità associata all'asset che può essere un'opera d'arte permette la possibilità di trasferimento del diritto e della proprietà. Ecco sono tanti e diversi settori che possono fruire e beneficiare di questa nuova tecnologia, magari nelle prossime puntate avremo l'opportunità di affrontare ancora di più. Ma siamo arrivati al focus, allora il focus rappresenta un importante argomento, le linee guida AGID, cioè le regole tecniche attuative del codice dell'amministrazione digitale che sono state emanate in materia di formazione, quindi ad esempio documento informatico integro, immodificabile e firme elettroniche, quindi requisito della paternità dell'autenticità e di gestione che riguarda più le pubbliche amministrazioni che la conservazione. che riguarda così come la formazione, oltre le pubbliche amministrazioni, anche i soggetti privati. Quindi così come le PA, anche i privati, le aziende, gli studi professionali, le fondazioni, qualsivoglia organizzazione di natura privata che conserva i propri documenti, in quanto li ha prodotti o in quanto li ha detenuti, deve nominare un responsabile della conservazione. Qui rapidamente vi dico che siamo in corso di un cambiamento, siamo proprio in questi mesi, già dal 10 settembre del 2020 sono entrate in vigore le linee guida AGID, in questa fase è stato facoltativo, che chi li ha voluti già adottare lo poteva fare. Nel frattempo sono rimasti in vigore le vigenti, le previgenti regole tecniche, in particolar modo quelle della conservazione mi riferisco al DPCM 3 dicembre 2013, ma dal 1 gennaio 2022 caput. Questo DPCM finirà di esistere e bisognerà adeguare obbligatoriamente i propri processi documentali, i propri processi di conservazione dei propri documenti alle nuove linee guida AGID. Ecco Fabio, volevo chiamarti rapidamente in causa per chiederti se queste linee guida dal punto di vista degli atti normativi hanno efficacia. Sì Fabrizio, come ha già specificato il Consiglio di Stato nel parere 21-22 del 2017, le linee guida, forse un atto di natura tecnica, assumono carattere vincolante di valenza ARGANOMNES come un atto regolamentare, con una fonte normativa regolamentare, quindi sicuramente hanno valenza, efficacia, ARGANOMNES vanno applicate immediatamente, senza la necessità di un ulteriore atto normativo applicativo. Ok, grazie molte. E poi è il codice dell'amministrazione digitale che ci impone la loro applicazione, non dimenticate che abbiamo varie disposizioni del CAD che indicano che in tutto il ciclo di vita e in particolar modo per tutti gli effetti legati alla conservazione e alla esibizione dei documenti, io devo rispettare le linee guida adottate dall'Agid. Vi cito anche l'articolo 43,3 del CAD che dice che risponde a quella domanda che mi fanno tutti. Lupone, perché devo conservare un messaggio PEC? Perché dobbiamo conservare dei documenti sottoscritti con una firma elettronica semplice? E la risposta sta nell'articolo 43,3 del CAD che si combina con che cosa? Ad esempio con l'articolo 2220 del Codice Civile. Se il 2002 e 20 ci dice che vanno per legge conservati documenti aziendali per un periodo decennale, è chiaro che se quegli documenti sono informatici, questa disposizione ci dice che la conservazione dovrà assolutamente rispettare le linee guida in materia di conservazione digitale dei documenti. Queste linee guida sono costituite da un corpo centrale e da una serie di allegati, uno dei meriti di queste linee guida è sicuramente aver contenuto tutte le fasi del ciclo di vita del documento, quindi come vi dicevo capitolo 2 formazione, la generazione corretta con valenza giuridica e probatoria del documento, la gestione che riguarda un po' più le pubbliche amministrazioni e il capitolo 4 sulla conservazione. Avremo poi degli allegati importanti, alcuni di difficile comprensione, questo è un demerito di Agid e alcuni troppo proiettati alle pubbliche amministrazioni senza distinguere un'obbligatorietà PA privati, questo è un altro demerito di queste linee guida, sicuramente per i metadati, che sono i metadati? Sono quelle chiavi descrittive, quegli indici che si associano ad un oggetto digitale come un documento o un fascicolo per quanto concerne le pubbliche amministrazioni e fondamentalmente sono un po' troppo orientate alla pubblica amministrazione. Qui vi ho riportato, ma avrete modo di approfondire poi da soli insieme a Rata Sede. Vi ho riportato appunto un flusso su quello che è il processo di conservazione, ma soprattutto i ruoli. Abbiamo il titolare, per fortuna le nuove linee guida abbandonano la vecchia terminologia errata e introducono il concetto di titolare, cioè il titolare dei documenti, cioè il soggetto obbligato per legge alla loro conservazione. Poi abbiamo il produttore dei pacchetti di versamento che può coincidere col titolare o essere un altro soggetto, che quindi genera e trasferisce i documenti, i pacchetti di versamento al servizio di conservazione. Qui naturalmente stando in casa di Documents, vi ho inserito come conservatore di Documents, a cappello di tutto, come responsabilità dell'intero sistema abbiamo il responsabile della conservazione. Vediamo insieme questo ruolo, ruolo apicale, ruolo importante, il responsabile della conservazione definisce atto alle politiche complessive, ma vedremo insieme che se andiamo a leggere le attività, i compiti previsti dalla legge, sarebbe impossibile riuscire come persona fisica a rispettare questi compiti. Quindi tutto da anni le aziende, poi il loro responsabile della conservazione, delega tutti questi compiti e queste attività, vedremo ad eccezione di una, al conservatore che quindi ha una specializzazione, una competenza, una infrastruttura hardware, software e organizzativa, una serie di asset che gli permettono di erogare quanto previsto dalla legge. Ma comunque le aziende devono nominare un proprio responsabile della conservazione, è una persona fisica o una persona fisica che opera presso la struttura organizzativa del titolare, quindi potrebbe essere, faccio l'esempio, il legale rappresentante come figura, diciamo, formale e o un suo direttore responsabile, non so, direttore amministrazione, direttore IT responsabile, quindi possono essere tante le possibilità, ma le aziende, a differenza delle pubbliche amministrazioni, possono nominare anche una persona esterna, no? Come ad esempio un Fabrizio Rupone, per dirvi, una persona in possesso di doni e competenze giuridiche e informatiche archivistiche o anche un commercialista, quindi comunque una persona che abbia un minimo eseguito un percorso o abbia intenzione, diciamo, di seguirla al fine di raggiungere un minimo di competenze giuridiche e informatiche archivistiche purché abbia funzione di terza età rispetto al conservatore. Quindi questa persona non deve essere una persona fisica che lavora presso il conservatore, ma deve essere una persona che garantisca il requisito di terza età. Altra cosa, la nomina. La nomina naturalmente può essere formalizzata in ambito privato, va sicuramente indicata nel manuale della conservazione. Nelle pubbliche amministrazioni invece il responsabile della conservazione è un dirigente o un funzionario e deve essere formalmente designato. Ecco, il responsabile della conservazione, come vi dicevo, può delegare all'esterno ad un conservatore tutte o parti delle attività, ma può avere anche delle deleghe interne. Cioè può avere, pensate a un legale rappresentante che contrattualmente delega tutti i compiti al conservatore di documents, che però poi internamente fa una delega indicata nel manuale della conservazione del titolare, in cui indica che il responsabile IT verificherà che tutti i documenti trasferiti sono verificati nel buon esito del trasferimento al conservatore. Quindi è importante, tra virgolette, anche il sistema delle deleghe. Vedete i compiti previsti in capo al conservatore, che quindi prende in delega questi compiti, sarebbero impossibili da gestire da parte di una persona fisica. Cioè è molto difficile, la norma lo prevede, la norma prevede due possibili modelli, il modello in house, cioè dove l'azienda si installa il software della conservazione e eroga attraverso la propria struttura il processo, molto poco diffusa. ben più diffusa invece è il modello in cui l'azienda e l'organizzazione privata affida contrattualmente in outsourcing le attività di conservazione a un conservatore, che poi rispetta il compito A, B, C, D, F, G, fino alla L, fino ad eccezione del punto M. Ecco, Agide nell'ineguida ha voluto indicare una cosa ben precisa, ha voluto indicare la distinzione tra il manuale della conservazione del conservatore e il manuale della conservazione del titolare. Il responsabile della conservazione del titolare deve redigere e aggiornare nel tempo il proprio manuale della conservazione. Ecco, cosa importante, vi dicevo che appunto possono essere, ad eccezione della lettera M, delegate tutte le attività ad un outsourcer, ad un soggetto esterno chiamato conservatore, che nella sua organizzazione nomina un proprio responsabile del servizio di conservazione, che è diverso dal responsabile della conservazione del titolare, e Agide nelle linee guida, in particolar modo dal paragrafo 4.5, ha specificato dei concetti di responsabilità, di delega, di vigilanza, e alcuni riferimenti a cosa deve contenere il contratto tra le parti, che vi faccio dire da Fabio. Vai Fabio, raccontaci cosa ha detto Agide nelle proprie linee guida. Sì, innanzitutto ha specificato un elemento che è fondamentale sottolineare, che la responsabilità giuridica sui processi di conservazione rimane, non essendo delegabile, in capo al responsabile della conservazione, il quale anche in caso di delega di funzioni è sempre chiamato a supervisionare le attività di verifica e controllo della delega che viene conferita. È importante in caso di delega che il nominativo riferimenti della responsabile della conservazione vengano indicati, sia indicata la mail, nelle specifiche del contratto o nella convenzione che si stipula con il conservatore. E anche in questo caso nella convenzione è importante specificare quelle che sono le attività che sono affidate ai responsabili del servizio di conservazione. Ok, quindi nel contratto tra conservatore e titolare ci sarà una delega, un atto di delega che specificherà i dati del responsabile della conservazione e le attività delegate, giusto? Esattamente sì, perché sono questi gli elementi che delineano poi la responsabilità giuridica. Ok, perfetto, grazie. Andiamo avanti, chiudendo, la close è sul manuale della conservazione, vi ho già detto che rimane questo obbligo in capo al responsabile della conservazione che quindi dovrà naturalmente in maniera semplice predisporre questo manuale che conterrà come parte integrante e sostanziale, come allegato parte integrante e sostanziale, il contratto con il conservatore, l'eventuale documento di progetto scheda servizio e soprattutto il manuale della conservazione del conservatore. Questo per dirvi che il manuale della conservazione del titolare, se ha un solo conservatore, diventa diciamo un documento di struttura molto breve che è costituito da una serie di allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale. Io direi che siamo arrivati alla fine, è stata un'intensa ora in cui vi abbiamo sì bombardato di informazioni, ma spero di informazioni assolutamente interessanti. Lascio la parola a te Federico. Grazie, grazie Fabrizio. Chiedo ai partecipanti, alcuni di voi lo avete già fatto, di mandarci delle domande, le potete inviare tranquillamente e noi le leggeremo. Vedo di già comunque che ne sono arrivate abbastanza, quindi proveremo a rispondere a quello che possiamo nel nostro tempo che rimane, direi di chiudere per le 12.10, 12.15 più o meno il webinar, anche perché dopo fisiologicamente l'attenzione cala e quindi si perderebbe un pochettino di valore diciamo in questo webinar che deve essere considerato comunque sempre di interesse. Quindi oltre alle domande che ci sono arrivate, ce ne sono arrivate anche alcune in questi giorni durante l'iscrizione. Partirei quindi e farei un pochettino di quelle che sono arrivate oggi, ma anche quelle che ci sono arrivate nei giorni precedenti. Allora una che ci è arrivata nei giorni precedenti è abolizione sterometro. Che cosa fare in caso di ricezione dei fatture estere in valuta, dollari, sterline o altro? La fattura dovrà essere convertita? Ok, grazie Federico. Sì, mi avevi veicolato questa domanda che è arrivata, no? Proprio ieri mi sono messo sopra perché comunque questa era una tematica riscontrata anche proprio a livello di fattura elettronica. Quindi l'agenzia delle entrate, no? Nelle FAC, se voi cercate su internet FAC, agenzia delle entrate, fatturazione elettronica, troverete un file contenente tutte le domande risposte. La FAC numero 64 del 19 luglio 2019 è quella che risponde al quesito del partecipante. Appunto ci ricorda che il decreto IVA, quindi mi riferisco al DPR 633 del 72, all'articolo 21 richiede che le informazioni relative all'IVA, all'operazione all'IVA, siano assolutamente indicate in euro. Quindi nella predisposizione della fattura del ciclo attivo con i 7X o della fattura TD 17, TD 18, TD 19 del ciclo passivo, le informazioni relative all'IVA, quindi i dati di riepilogo, l'importo e l'imposta, vanno tutte indicate in euro. Poi l'agenzia ha detto se volete, no? indicare anche i controvalori in dollaro o in altra valuta, in questa risposta troverete le indicazioni dell'agenzia di dettaglio sui campi da eventualmente e facoltativamente valorizzare se volete, tra virgolette, indicare il controvalore. Poi non ho detto quando abbiamo parlato dell'esterometro che io consiglio a tutti per quanto concerne il ciclo passivo di fare una furbata. Cioè la furbata qual è? È di adottare un'unica modalità di conservazione digitale, eliminando l'obbligo di conservazione cartacea delle fatture ricevute dai vostri fornitori intra-way ed extra-way. Come potete fare? Potete naturalmente qui agendo nel perimetro del vostro IRP, del vostro software di contabilità, prendere tutti i PDF che arrivano e allegarli al TD17 o TD18 o TD19 in modo poi, perché ricordatevi che l'XML della fattura prevede la possibilità di allegare dei documenti in PDF e quindi in modo da conservare poi l'intero contenitore. L'XML che permette la comunicazione di dati IVA all'amministrazione finanziaria è come allegato il documento ricevuto, originale, ricevuto dal fornitore europeo, va bene? O extra-europeo. Ottimo. Allora direi di continuare con una domanda che ci è arrivata oggi invece. Paolo ci chiede il manuale della conservazione deve essere predisposto da ciascuna azienda entro il primo gennaio 2022? Allora sì, è fatto bene a dire da ciascuna azienda perché poi mi sta capitando in questi mesi dove potete immaginare che sto lavorando molto sulle linee guida e che non sia chiaro poi la corretta applicazione quando si ha un gruppo di società. Naturalmente ciascuna legal entity, ciascun titolare dovrà avere un suo responsabile della conservazione. Poi nel caso di gruppo, se c'è una capogruppo, c'è una società che ha delle controllate, ha delle collegate, naturalmente ci potrebbe essere una persona fisica, un soggetto che fa da responsabile della conservazione. Però per ciascun titolare va indicato il responsabile, per ciascun titolare ci dovrà essere un manuale della conservazione. Immaginate che entrando in vigore dal primo gennaio del 2022, la scadenza per avere questo manuale è quella. È chiaro che se vi dovesse succedere di doverlo redigere anche nelle settimane successive, mettendo magari una data di redazione con l'approvazione entro il 2021, inizio 2021, molto probabilmente non succederà nulla. Però è l'adeguamento previsto dalla legge dal 2022 poi. Ok, grazie. Sì, ne stanno arrivando, ne stanno arrivando parecchie. Farei ancora un'altra domanda di quelle che abbiamo ricevuto in passato e poi dopo continuere con le altre. Il preavviso di recesso dell'agente può essere fatto in formato elettronico e nel caso con quale tipologia di firma va sottoscritto? Ci hanno chiesto. E chiederei di far intervenire Fabio De Massis, l'avvocato Fabio De Massis. Allora, per quanto riguarda la disciplina del contratto di agenzia, come abbiamo detto già prima, è regolata dall'articolo 1742 e seguenti del Codice Civile. Come potrete vedere, nessuna di queste norme codicistiche prevede che i contratti abbiano la forma di scritta a penna di nullità. Quindi possiamo dedurre e sicuramente affermare che il previso di recesso possa essere fatto in formato elettronico e nel caso basterà sottoscriverlo con una firma elettronica semplice perché esso possa avere validità. Grazie mille. Un'altra domanda che ci è arrivata oggi. Lorenzo ci chiede, non so se è pertinente, penso di sì comunque, io provo a farla. La lettera d'intento va riportata su tutte le righe della fattura negli altri dati gestionali? Non so se è argomento della giornata o meno questa parte qui. Sì, l'ho citata io, tra le novità delle specifiche V1.7. In realtà altri dati gestionali può essere ricorsivamente come blocco dati riportato per ogni riga, ma se la dichiarazione d'intento si riferisce a tutta la fattura basta indicarla una volta. Se invece ci sono delle specificità di una riga rispetto ad un'altra, allora si andrà a inserire in quella specifica riga. Ok, grazie mille. Un'altra di oggi, sempre a livello abbastanza tecnico sulle specifiche tecniche. Mauro chiede, la nuova validazione prevista dalle specifiche V1.7 è obbligatoria dal periodo solare 1 gennaio 2022, quindi per le fatture con data 2021? Ne inviate nel 2022 o per i documenti con data 1 gennaio 2022? Eh, bella domanda, nel senso che su questo molto probabilmente faranno un chiarimento. Perché sono abbottonato? Perché già era successo, non so se ve lo ricordate, al primo gennaio del 2021, che tutti pensavamo eh dove ci sono stati un sacco di scarti, di errori, perché hanno applicato la validazione, tutti pensavamo che su quelle con la data eh precedente eh ci fosse eh diciamo un un una mancata validazione rispetto a nuove versioni invece poi è avvenuto. quindi vi dico a rigor di logica eh diciamo si dovrebbe applicare solo dalle eh fatture con la data nuova però eh io starei attento adesso speriamo che eh ho saputo no eh specialmente dall'agenzia che sicuramente eh daranno eh diciamo una risposta. Per esempio un altro dubbio molto utile Federico mi permetto di dirlo è le 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 queste TD 17, queste TD 18, TD 19 in quale flusso vado a conservarle digitalmente? A mio avviso in un flusso passivo in quanto sono rappresentativa di una comunicazione dativa di fatture d'acquisto no? E su questo appunto mi diceva l'agenzia che ho sentito informalmente che ci sarà un chiarimento. Quindi spero che ci sia un chiarimento anche eh da questo punto di vista sulla corretta applicazione. E adesso comunque se voi prendete le specifiche V17 dovrebbe esserci la vigenza anch'io me lo andrò a rileggere bene per vedere insomma eh cosa dicono nel dettaglio. Allora qua giusto per completezza eh la signora Monica ci fa una domanda se eh i gestionali si sono hanno già implementato alcune funzioni per fare un'autofattura automatica dalla ricezione della fattura stessa. Questo qui è un discorso che purtroppo noi non possiamo conoscere alcune soluzioni gestionali ce le hanno altre soluzioni gestionali ci stanno arrivando oppure non le implementeranno. Questo qui noi non lo possiamo sapere. Quindi diciamo che era una domanda un pochettino per per noi di di documents a questo punto ed era opportuno che rispondevamo noi. Eh la signora Giuliana ci chiede se nel file l'XML delle fatture da trasmettere ciclo passivo è obbligatorio indicare la quantità e il valore unitario oppure si può indicare anche solo il totale della fattura? No allora cioè si dovrebbero su questo trovate indicazione ad esempio nella guida e nelle facche dell'agenzia se volete andare a dettagliare. Come fate? Aprite questi pdf e fate delle ricerche su ctrl f no? Delle ricerche nel documento T17, T18 e T19. Questo però per dirvi che queste autofatture integrazioni servono a comunicare i dati dell'IVA. Quindi in generale diciamo l'obiettivo è quello eh no della integrazione che facevate dell'autofattura dell'integrazione ai finiva che facevate sul cartaceo adesso la fate attraverso un XML. Ok? Quindi in generale non c'è bisogno di dettagliare le quantità, le qualità eh ma eh l'obiettivo è quello di comunicare no eh fondamentalmente le indicazioni obbligatorie un po' come era per l'esterometro. Sì allora qua Giuliana ci scrive eh mi scusi il TD16 è obbligatorio. Eh no allora mentre TD17, TD18 e TD19 servono al fine di adempiere all'obrogazione dell'esterometro quindi a comunicare i dati del ciclo passivo il TD16 vi ricordo che rappresenta il reverse charge interno che significa un'azienda che fruisce di un servizio di pulizia riceve fattura dall'impresa di pulizia deve integrare e finiva questa fattura ok? Di reverse charge interno non è obbligatorio al momento la mia opinione è che nei prossimi anni lo renderanno obbligatorio quindi vi esorto ad iniziare a utilizzarlo per abituarvi però al momento non è obbligatorio. Allora scusate scusa Federico naturalmente questa domanda adesso riflettevo che è un po' di volte che mi arriva perché? Perché non so se sapete che per i soggetti che hanno la liquidazione trimestrale l'agenzia su fatture corrispettive ha messo a disposizione i precompilati IVA, registri IVA precompilati, l'IPE IVA e dichiarazione annuale IVA precompilati. Naturalmente se un'azienda vuole utilizzare come tenuta del registro IVA il registro IVA precompilato dell'agenzia obbligatoriamente deve mandare il TD16 se no nel registro IVA precompilato quell'operazione non sarà mai rappresentata però siccome siamo nell'obbligatorio della facoltà di decidere di utilizzare questi precompilati o no diciamo il TD16 in senso generale non è obbligatorio. Allora direi che il nostro tempo sta finendo concluderei con altre due domande che ci sono arrivate alla fine perché vedo che comunque ci sono ancora parecchi partecipanti collegati poi dopo bisogna interrompere perché comunque ovviamente comunque l'attenzione dopo un'ora e un quarto può calare. Allora la prima domanda è sempre per Fabio De Massis, per l'avvocato Fabio De Massis, se il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata può essere utilizzato in qualsiasi rapporto contrattuale oppure usistono delle limitazioni d'uso? Allora aveva specificato che l'articolo 60 del DPCM del 23 febbraio 2013 sottolinea come l'utilizzo della FEA possa essere fatto soltanto nei rapporti tra sottoscrittore e soggetto erogatore. Fare un esempio tra la casa farmaceutica e i propri agenti, i propri informatori farmaceutici con i quali è un rapporto d'agenzia sul territorio. Quindi per questo tipo di firma la norma prevede questa tipologia di limitazione d'uso. Ok, grazie mille. Ultima domanda per Fabrizio che è molto lunga, chiedo però a Fabrizio se è possibile una risposta abbastanza telegrafica. Dottor Lupone non è l'argomento della giornata? Abbiamo un grosso dubbio. Ai fini dell'applicazione del regime di quell'articolo 3, decreto legislativo 127 2015, oggetto di ripetute modifiche nel corso del tempo, il quale prevede il riconoscimento di un regime premiale o consistente nella riduzione dei termini di accertamento di due anni a favore di soggetti che effettuano e ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per importi superiori a euro 500. Leggendo la norma non riusciamo a capire se una società che riceva fatture da soggetti forfettari o comunque da altri soggetti passivi di imposti italiani in formato cartaceo, quindi analogico, non tramite SD, possa aderire al regime premiale. O se debba aderire al regime premiale, chiedere a tali soggetti che le fatture da loro emesse transitino dallo SD. Ho capito Federico, lo spiego io meglio sintetizzando. Ci riferiamo al regime premiale, un regime che tutte le aziende possono fruire se adottano pagamenti elettronici emessi o ricevuti con la soglia di 500 euro. C'è il decreto ministeriale dell'agosto del 2016 che ha specificato le modalità di pagamenti elettronici attraverso carte, bonifiche e via discorrendo. Allora la domanda è, ma mi basta gestire correttamente i pagamenti elettronici nell'ambito dei pagamenti fatti o ricevuti dalla mia azienda o devo per forza avere anche tutte le fatture elettroniche? Quindi se ho dei fornitori forfettari che non sono obbligati, obbligare loro ad emettere la fattura elettronica? La risposta è no, non puoi obbligare ad emettere la fattura elettronica, nel senso che non è tra i prerequisiti di base. Dovete garantire naturalmente la fatturazione elettronica per quelli che sono i vostri obblighi e non del fornitore e dovete soprattutto garantire invece il requisito dei pagamenti elettronici con la soglia prestabilita per legge. Benissimo, direi che il nostro tempo a disposizione è ampiamente terminato. Ringrazio l'Avvocato De Massis per i suoi interventi. Ringrazio Fabrizio, sempre il nostro lupo per la rubrica che ha tenuto anche oggi. Ringrazio tutti voi, voi partecipanti, vedo che ancora il livello di attenzione è molto alto. I servizi proposti in queste slide, come la firma degli agenti nei contratti di sottoscrizione con firma elettronica semplice ad esempio, ma anche la digitalizzazione dei DDT e dei CMR per la prova di ricezione merce intra-UE per il regolamento UE. Sono servizi che Di Documents propone, ovviamente anche tutto il discorso di fatturazione elettronica noi lo proponiamo ampiamente ormai da anni. Ringrazio la regia e il supporto tecnico della società Contact Value che ci supporta con queste dirette, con questi webinar. Ringrazio ovviamente anche tutti quanti quelli che ci hanno seguito in questi anni. Dall'anno prossimo ancora si pensa che si continuerà diciamo la rubrica del lupo, ma per quest'anno abbiamo terminato, quindi ci a risentirci nel 2022 e grazie ancora siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda anche in futuro.